ciao cari amici e cominciamo questa live sotto sopra bellissimo 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 le live di marco drums game sono veramente veramente fantastiche ciao stream elements chiaramente stamattina il mio gatto e ragazzi mi ha fatto cadere la telecamera e siamo effettivamente sotto sopra condividiamo la live ozza amici miei una bella live ozza by marco drums games channel buona festa della mamma a tutti a tutte perché comunque la festa della mamma ma è la festa di tutti è perché effettivamente siamo tutti ciao deciso guarda la telecamera ha deciso il gatto me l'ha fatta cadere l'ho messa al contrario grande deciso ciao 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 amico mio adesso appena arriva mia moglie la mettiamo dritta è che figata non ho voglia di alzarmi a girarla ciao amici buona festa della mamma salutatemi la vostra mamma a tutti e e fate gli auguri dal vostro marco drums games channel la telecamera l'avete girata al contrario perché chiaramente il gatto stamattina lui va lì a grattarsi e me l'ha fatta cadere la gattina la mitica mina e quindi faremo una parte della live contro perché non c'ho voglia di alzarmi sotto sopra bellissima bellissima questa buona festa fai gli auguri a tua moglie grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille by marco dramski e sto facendo la la condivisione su facebook comunque bella questa questa citron adesso ragazzi sto facendo i soldini da metter via per comprare la mitica 20 millions la cobra la cobra shelby che sono state prodotte solo sei quindi io praticamente la voglio ok perfetto condivisione anche su facebook e finiamo per condivisione anche bella 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 molto bella sta citron molto bella tra l'altro io non so se ce l'ho io così quasi vado a vedere andiamo a vedere un attimo se ce l'abbiamo se abbiamo questa mega citron eh raga non non è niente male io direi eh tra l'altro devo mettere su il computer la live eccoci qui perfetto allora questa citron andiamo a vedere un attimo che citron è prima di ticci che bello essere sotto sopra ragazzi allora la citron è Francia eccola qua ma io avevo comprato poi tutti i biglietti perché si ah ok li ho comprate tutte perfetti perfetto 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 allora io volevo ero tentato di aprire immediatamente il biglietto ciao amici e amiche di twitch ciao ragazzi allora se vedete la telecamera al contrario non fateci caso è anche in piccolo tra l'altro vabbè non fateci caso oh roulette da 5 è perché il gatto è andato lì a strofinarsi la mitica mina me l'ha fatta cadere io l'ho messa al contrario adesso appena arrivo a carla dai una macchina anche se ce li ho ciao uuuuh bimax ma hai portato fortuna penso di averne già tre o quattro di lamborghini uiuracan gtr 3 2015 però chi se ne frega bella lì una bella macchinetta in più fa sempre comodo anche perché questa la potrò magari mettere una bella livrea ciao bimax buona festa delle mamme a tutte moglie e mamme e tutto quello che è il lambaradano della mamma e la passiamo insieme giochiamo un po' stamattina stavo facendo altre live su series x infatti vedete qui la telecamera e il gatto ha fatto cadere la webcam e chiaramente io l'ho messa al contrario ecco quindi aspetteremo poi carla per allora vi voglio farvi vedere prima di tutto la mia macchina guardate che bella la livrea voglio farvi vedere la livrea ciao sharder grandissimo buona festa della tua mamma e mi raccomando una cosa guarda bene che è contrario vedi c'è la webcam girata al contrario amico sharder perché perché il gatto l'ha fatta cadere e io l'ho messa al contrario devo aspettare carla che arriva per girarla e non c'ho voglia di alzarmi ok questa è bellissima ragazzi voglio farvi vedere anche la mitica alfa romeo fatta dall'amico sharder guardate e l'amico sharder mi ha detto che c'è pronta anche la beetle la bitollina devo tenere il telefono al contrario e vedai dopo quando arriva carla lo tra l'altro è anche più piccola penso che abbia preso una botta se era tutta scassata penso che che penso che si sia anche scassata vabbè speriamo di no speriamo che non sia scassata la webcam se la dobbiamo tenere c'è la livrea del baa aspetta che vado subito a prendere la macchina dove la mia macchina eccola qua allora io avevo questa allora guardate ragazzi la la beetle guardate la livrea fatta da una persona normale esatto fatta un po carina carina ma noi abbiamo la nostra bella livrea fatta da sharder andiamo subito a cercarla andiamo immediatamente a cercarla uuuuuh Bragali guarda che roba guarda che già tutti ti scrivono che stai facendo delle cose fantastiche sharder design Bragali tv mamma che bella ripubblica commenta spettacolare stupenda la mettiamo nella raccolta e la vediamo in anteprima amici miei guardiamo il casco fatto dal mitico sharder design per mia moglie Bragali uuuu questo devo farglielo vedere mamma mia ma quanto sei diventato bravo a far la roba ragazzo marco sei diventato fa madonna si subaru ragazzi perché usiamo prevalentemente la BRZ e la Subaru bellissimo squadra corsa è bellissimo bravissimo allora costa vediamo qui tanta tanta roba fantastic work you're free check on gallery 2 ha scritto il tipo lì mi marco drams ringrazia così apposta io in terza persona e poi voglio farne un'altra bellissima bravo e mi metto il cuoricino anche tra l'altro così almeno facciamo una cosa fatta bene sharder 98 italy mettiamola nella raccolta vediamola e vediamola la mia nuova macchinetta ragazzi mamma che meraviglia mamma che meraviglia che bella squadra corse guardate la nuova livrea che mi ha fatto sharder ragazzi amazon prime bravissimo petronas live on twitch race marco drams games è bellissimo si 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 squadra corse bellissimo marco drams games sulla fiancata si vede on live twitch bellissimo 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 l'italia grey bellissima 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 volkswagen racing bellissima team marco drams games racerum online twitch bellissimo si si live on twitch è fantastica bravissimo un'idea incredibile ragazzi guardate che livrea marco drams mamma mia racing bellissima bellissima grande grande sharder design verso davanti il 17 lì bellissima andiamo subito a metterla ragazzi non non vedo c'è questo è un altro mio amico no a costantino vedete come le fa shatte bravissimo che lui è bravo costantino non si può dire shatte ne shatte vuol dire una brutta cosa sono normali ecco normali invece sharder fa cose fantastiche allora impostazioni auto aspetta dove gliela non mi ricordo mai dove gli metto la livrea no non è qua amici miei allora come state come state come state come va allora carica stile la raccolta ed eccola qui eccola qui questa è di bragali questa di marco drams no guardate ragazzi vediamo quanti soldi mi fa scendere spendere l'amico sharder per poterla fare è sempre bravo lui è sempre bravo 4000 grazie grazie ciao frac grandissimo sei eri in live con me stamattina francesco grandissimo guarda che livrea mi ha fatto l'amico sharder ragazzi scusate è contrario della telecamera ma perché il gatto me l'ha fatta cadere e dopo dopo la recuperiamo per arriva carla la mettiamo ancora dritta scusate se lo vedete un po le immagini al contrario è un po strano però guardate la livrea che mi ha fatto sharder ragazzi è bellissima 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 è frac bravissimo sharder una cosa incredibile aspetta che andiamo che me la sta scaricando e andiamo a grande frac stamattina era con me frac a fare la prova di trek of trek to yomi che è il gioco colori che è uscito venerdì bellissimo bellissimo anche lui abbiamo fatto un bel pezzo di gioco voglio fargli vedere la livrea e poi c'è anche il casco di carla quando giocherà lei devo andare anche a cambiargli il personaggio ma si può fare due personaggi sharder secondo te c'è il mio pilota e il suo pilota distinti secondo me no allora guardate oh guardiamo un attimo uh sharder 98 guardate che bella ragazzi la nuova livrea di marco drums questa è tanto oh racing volkswagen sharder design volkswagen marco drums 17 bellissima ragazzi ciao amici amiche di twitch grandissimi oggi corre anche carla e quindi rimanete mi sa di no che cosa ti sa di no amico mio non mi sono perso mi sa di no cosa bellissima 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 grazie grazie oh abbiamo da cambiare anche l'olio grazie sharder davvero davvero dopo giochiamo insieme ragazzi e quindi se volete giocare con noi senza problemi dopo mi faccio un po di partitelle hai visto che bella frac bellissima proprio cambiamo l'olio perché della tuta ok ok scusa scusa infatti ti avevo fatto la domanda e poi non mi ricordavo più non mi ricordavo più che cosa ti ho chiesto si della tuta devo devo selezionarla tutte le volte credo aspetta fammi vedere perché così lo faccio raccolta raccolta bragali e poi devo andare raccolta bragali eccola qua allora quando corre carla devo mettergli la tuta sua quando poi invece corro io marco drums beh è una stupidata è comunque e marco drums cioè è una ciao chris grandissimo sono a testa in giù perché il gatto ha fatto cadere la telecamera però dopo l'analizziamo vai tranquillo guardatevi a testa in giù che è più è un po' particolare non credo che mai nel web avete visto una live con lo streamer a testa in giù e quindi questa è una cosa pazzesca ragazzi qualcosa che non si vede oh guarda chris la livrea nuova che mi ha fatto l'amico sharder grandissimo tra l'altro è diventato un mastro livreatore eh ragazzi guarda guarda la livrea chris se ti piace qualcosa di veramente veramente bello qualcosa di veramente veramente bello sì davvero ragazzi veramente bello mi piace la nuova livrea per la la beetle ah ragazzi guardate che roba e ha fatto anche la livrea del casco infatti mi tocca tenere il telefono al contrario ah ah super bella chris hai ragione guarda che roba mamma mia che livree grazie grazie a sharder ha migliorato di un 20% la qualità delle mie live con queste livree fantastiche davvero 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 grande davvero grande allora amici miei 8 milioni quindi non posso praticamente andare a comprare la shelby ieri ho comprato la mclaren da 10 milioni non so se eravate con noi che è questa qui questa l'ho comprata ieri l'abbiamo provata ma fa un po' la capricciosa questa qui esaurita quindi praticamente la cambieranno e c'è anche questa esaurita e la cambieranno c'è questa shelby da 20 milioni non è un granché nel senso che penso che non la userò mai ma nella mia collezione io la voglio quindi dovrà farmare 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 finché me la compro tanto l'hanno appena messa quindi io volevo fare prima di andare online con sharder e tutti gli amici anche kevin tutti tutti a fare un po' i giri i giri i giri e a provare a tentare di fare di fare gli oro gli oro su sulle allora io sto usando il pad e voi vi chiederete come mai marco drams usa il pad marco drams usa il pad perché marco drams usa il pad ve lo chiede anch'io me lo sto chiedendo ok allora manuale dovrebbe essere così ah marco drams sta usando il pad perché non l'ha attivato perché non ha neanche attaccato il filo marco drams proprio vai tra marco drams allora dai giriamo la telecamera che arriva marco drams ok non ci sta un sacco di cuscini ragazzi e adesso marco drams il filo metterà che non l'aveva neanche messo il filo ok oh è sbagliata la webcam vedete che ok ok amici ce l'abbiamo quasi fatta ti vedo tripulato oggi si bimax non c'è neanche festa per marco drams deve deve lavorare anche durante le feste ti vedo tripulato è bellissima grandissima ok proviamo a farla dai ok lui ha girato adesso adesso ok come mai è un po stortino no non è perfettamente dritto ma fatto il no prova dritto vabbè speriamo bene quando un po' quando un po' di formula 1 a vuoi che porto la formula 1 amico mio ce l'ho eh e ho comprato anche formula 1 2022 ragazzi quindi quando uscirà il gioco nuovo lo portiamo direttamente sul canale ma è infatti io ci un po' ci stavo la lama non vedo i cartelli ragazzi scusate devo devo entrare un po' nel mondo della ford del ma che così perché devi frenare ricorda e si devo frenare e si devo frenare purtroppo purtroppo hai ragione shard oh dai ho frenato stavolta mamma mia oh assolutamente si shard eh bimax scusa infatti la cosa che stavo chiedendo non so se l'ho detto io prima o se sei uscito tu con questa cosa che già volevo chiedere io ai ragazzi è se vi piacerebbe vedere anche la Formula 1 oltre il Gran Turismo solo delle serate così mi piacerebbe ragazzi vedere anche la Formula 1 sul canale di Marco Drums Games ho preso ok grande Shard si lo so infatti l'ho preso anche perché tu mi hai detto che l'avevi preso facciamo il lavoro ascolto eh si amico mio ok dai allora portiamo anche la Formula 1 ragazzi e se magari io la dico così la portiamo stasera la Formula 1 dalle 9 alle 11 così per cambiare un po' da Gran Turismo oggi ci facciamo una bella live strafiga con l'online con Carla che corre tira un po' a destra se vuoi ci si può restare anche se preferisco il Gran Turismo grande Frac perfetto perfetto no ma sai che cos'è tanto per cambiare no ciao ciao Fabrizio stasera no caspita ho sbagliato stasera Fabrizio volevo portare Formula 1 2021 cosa ne pensi cosa ne pensi amico gli amici oggi della chat dicevano di sia Formula 1 va bene anche F1 grande Chris si dai ci sta ok Fabrizio perché Fabrizio domani sera con Morris portiamo Warzone Fabrizio ti aspetto domani sera domani sera ti aspetto perché domani è lunedì e lunedì è serata Warzone con Morris e Michele ce l'ho sulla PS4 ce l'hai sulla PS4 ma non ti ha fatto la domani posso giocare si glielo dico anche a Morris ok così tengo pronto la serata Morris poi vieni dentro tu e Michele teniamo il posto al mitico Michele Formula 1 2021 ce l'hai sulla PS4 ma non ti è andato la versione anche PS5 le due versioni con questa Ferrari è dura ragazzi sono abituato alle GR4 amici miei alle GR3 scusatemi che qualsiasi altro tipo di macchina non mi è rimasto dritto no ancora no 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 non c'era quando hai comprato la PS5 caspita Sharder ma sei sicuro che non ti fa scaricare la stessa la versione era proprio due versioni diverse perché io ce l'ho l'avevo comprato su PS4 poi no forse l'ho comprato la versione PS4 PS5 forse hai ragione tu non lo so ok dai ai 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 caramba questa è tosta ragazzi a 200 metri bisogna frenare con questa qua è bella tosta eh ma come sgoma che bella tosta ragazzi a dove siete siete lì no no non tirare dritto le patenti ragazzi sono belle toste vai non girarti basta andare un po' sul cordolo bella lì dai allora stasera vediamo un attimo di fare il formula 1 2022 e 2021 scusate perché 22 deve ancora uscire però l'ho già preso quindi dopo all'uscita al day one ci giochiamo di brutto ma non abbandonerò mai il Gran Turismo ragazzi quindi non pensate male è troppo bello l'attrazione proprio del gioco di Marco Drums sarà Gran Turismo ma intervalleremo con altri giochi ecco che uno è Warzone assolutamente l'altro potrebbe essere Formula 1 e volevo anche 2 e 4 ok ci sta cosa ne dite voi di un 2 e 4 volevo portare anche quello dei vampiri il battle royale cosa ne pensate voi ragazzi se portiamo un giorno a settimana anche il gioco dei vampiri Blood Hunt che è un battle royale potremmo portarlo con Kevin e magari l'amico Sharder possiamo incominciare così e poi dopo se volete giocare anche voi possiamo fare una volta a settimana solo però e vediamo se funziona se funziona Blood Hunt battle royale adesso vediamo un attimo un filino mino 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 micro di replay e poi andiamo immediatamente a riprovare questa gara e a provarla a fare col pad ok qua mi sono imbarcato qui l'ho fatta proprio non bene anzi facciamo una bella cosa facciamolo tutto ciao amici amici di Twitch ben arrivati buona domenica buona festa della mamma a tutti è sempre bello passare le feste insieme ok ok non dovrebbe esserci aggiornamenti Sharder sinceramente però ti conviene farlo partire ciao amici amiche di Twitch benvenuti buona festa della mamma a tutti buona domenica buon Gran Turismo 7 con il mitico Marco Drums e con la mitica chat che siete voi quindi ragazzi dai che ci facciamo una bella giocata insieme se non siete iscritti amici miei iscrivetevi al canale mi raccomando stiamo correndo con una mitica Ferrari F40 credo però è le patenti quindi è tutto fatto benino per benino ok bravo un po' di salterello alla Scari devo far bene l'ultima ciao amici e amiche di Twitch 1-2-1-2-4-5-1 ragazzi 1-0-2-4-5-1 dai rifamo rifamo subito caspita 50.000 sempre così è sempre una battaglia il Gran Turismo di Marco Drums Games channel buona domenica buona giornata a tutti buona domenica buona festa dalla mamma mi raccomando ragazzi chi non siete iscritti iscrivetevi al mio canale mi farebbe tantissimo piacere c'è una bellissima community giochiamo Gran Turismo dai dai no no vieni amore mio avevo la webcam al contrario tata vieni si salutami tua mamma da fare gli auguri 200 500 51 millesimi ragazzi e poi tra l'altro c'è un'altra cosa difficile che sono le esperienze sul circuito è un'altra cosa veramente che è toste ciao amici amiche di Twitch benvenuti ragazzi e ragazze scrivete in chat così vi saluto e mi raccomando buona festa dalla mamma a tutti e a tutte ok grande grande chader a questa macchina in quarta non si riesce sì si ah 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 tata 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 vediamo il loro di Marco Drams che tra l'altro potrebbe anche scendere molto di più eh magari ce la facciamo un'altra volta e vediamo se riusciamo a farlo calare ancora da questo valore di 22732 fatto proprio lì per miracolo grazie sharder stiamo arrivando a completare tutte le patenti ok io ci sono e ero andato a sparecchiare bravo franc mitico grandissimo fai un sacco di cose di casa bravissimo bravissimo allora betty ciccio mi stanno seguendo grazie ragazzi condivido un attimo la live con carla bella bella olivia hai aperto la porta diamo un attimo c'è anche la mitica olivia nell'angolino se la vedete inizia olivia secondo me potrei buttarlo giù ancora un po' sto record ci proviamo adesso dai sfida tempo tiro singolo che poi ho riscontrato una qui ho sbagliato vedete ragazzi sono stato veramente largo secondo me se la faccio un po' più stretta recupero un altro bel secondino infatti qui quando ho fatto questa curva pensavo di non riuscire a fare l'oro vi dico la verità dai rifamolo il volante rimane storto oggi c'è qualcosa che non va nel volante spero che non si sia rotto non mi sembra che ha fatto la calibrazione speriamo che non tiri da una parte piuttosto che un'altra allora no aspetta ricominciamo ragazzi ok amico mio ok sharder va bene va bene salutami la tua mamma ciao amore mio devi chiudere un po' la porta tesoro nooo che sbagliata totale ciao amici e amiche di twitch buona festa dalla mamma a tutti buona domenica mi raccomando in compagnia di marco drums games channel streamers professionistico e l'amica chat che siete tutti fantastici ragazzi quindi se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi è grandissimi dai sharder ti aspetto che poi facciamo l'online oh c'è sharder dopo gli faccio vedere il casco quando ci sei tu presente eh ok così vede la reaction ciao ragazzi amici e amiche di twitch benvenuti buona domenica insieme si 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 chiudi la porta amore mio è troppo sempre il solito discorso bravissima c'è un sacco si un attimino ciao amigas sorpresina per te dopo si 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 auguri amore mio eh perché tu sei mammina un secondo che abbiamo finito eh tata guarda ho buttato via la gara quindi puoi anche venire adesso vai vieni puoi passare di lì perché oggi forza davvero tanto se la fai passare di lì ti ringrazio allora io ho fatto la c'è anche olivia la telecamera era al contrario eh perché il cazzo se mica c'è nato su stamattina ti ricordo questa si può spostare ciao grandissimi amici e amiche di twitch benvenuti ragazzi non so se si vede la mia manina devo fare così buona festa della vostra mamma a tutti e a tutte e mi raccomando passatevi una buona domenica di relax tranquillità e ci divertiamo insieme ok amici e amiche vero il mio amor? sì io ho già fatto l'oro eh però sto solo vedendo se riesco a tirar giunto un po' il tempo grande amore grazie mi raccomando di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto amici miei quando arriva a Shard ti facciamo vedere la tua sorpresa io l'ho già vista è bellissima ma come vai? vedi il mio cospeggio è marino vediamo non si ha il riferimento no amici e amiche di se stai andando bene o peggio rispetto al giro prima quindi non si ha ho cercato di stare più dritto possibile 2,2,6 niente dai lasciamo stare raga è andata di fortuna prima la Sam sta la Sam sta oh e infatti volevo entrare in una classifica un po' un po' migliore sedicesimo vabbè ci sta raga dai l'importante è diciamo essere nell'oro basta che gli mandi il link e lei entra dentro clicca il link e entri dentro direttamente nell'app e fai apri app allora opzioni controller ok levetta ciao amici amiche di Twitch benvenuti ragazzi e ragazzi volevo fare una prova scusate volevo fare una prova soltanto a giocare col pad rispetto con il volante perché perché di sì però col pad il cambio devo metterlo manuale perché non sono capace col pad di metterlo tra l'altro ho imparato tipo da due settimane a giocare col cambio mi trovo veramente bene perché prima sinceramente non riuscivo neanche a a giocare col cambio su sulla play sul 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 volante sto usando il pad raga perché voglio vedere se effettivamente come dicono in tanti e come ho constatato due volte io è più reattivo il volante ti fa star dentro come se stai guidando davvero però poi alla fine della fiera grande grande madre mia porca loca ai caspiterina ai caspiterina paddino paddino cattivino stavo andando così bene pensavo già di aver fatto un tempo tom ciao grande tom ah spongi bellissimo bellissima quella icona mitico sto provando a fare la patentucola ecco prima ha frenato 200 adesso non ha frenato va bene grandissimo 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 spettacolare spettacolare allora normalmente quando cerco di fare queste cose e mi va bene le prime curve ormai il mio cervello pensa che abbiamo già fatto l'oro più pazzesco del mondo e credo che faccia cose strane oggi f1 oggi stasera 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 voglio provare a portare la formula 1 amico mio madonna ah oggi formula 1 reale la pole ah si tom scusami pensavo che parli della live perché volevo portare dopo la pole incredibile di leclerc e la seconda di science con la ferrarina sempre ai primi quest'anno una cosa incredibile e il circuito nuovo è quindi se tutto va come deve andare ragazzi la prima volta che ha vinto è stata una ferrari top stasera quest'anno ce la giochiamo veramente la grande speriamo bene io non me lo sto guardando perché non voglio penso sempre che quando lo guardo ho troppa tifoseria e porto sfortuni facciamo stare mi la guardo dopo la partita la gara di formula 1 e stasera volevo visto che mi è venuta una gran voglia fare anch'io il formula 1 2021 anche perché poi ragazzi il formula 1 2022 io l'ho comprato quindi poi quando a luglio se non sbaglio giugno o luglio oltre il il mega gran turismo fichissimo porteremo anche sul canale il formula 1 che bello si è bello anche il formula 1 quali i nostri team eh si tutto 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 ormai c'è il team corse marco drum games dove fa parte la mitica Bragali sharder tu sei un po' in diretta grande 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 allora facci sapere se vinci solo se vinci se non vinci fai finta di niente perché là sono Miami quindi com'è il fuso sarà 6-7 ore di ritardo è la sera forse da noi vero Miami ciao ciao ragazzi grandissimi grandissimi spray allora l'oro l'ho già fatto questa patente ma volevo provare a vedere come si comporta col pad c'è la scritta ok vabbè niente lasciamo stare è la stessa schifezza ok va bene dai sono 14 si potrà vedere alle 21 e non alle 3 di notte oh ok ok alle 21 si potrà vedere alle 21 e 30 invece delle 3 di notte allora poi questa l'avevo fatta e mi manca questa qui con la supretta vediamo un attimo di fare questa qua con la sua uh Tokyo con questa Tokyo con la Supra GT597 e vabbè ecco eccola là mi sono dimenticato mi sono dimenticato di mettere il cambio automatico facciamolo col pad allora vediamo un attimo lo sto facendo col pad tanto per ma tanto so già che farà schifio ok niente allora facciamo una bella cosa impostazioni no 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 perché i muri e appena tocchi il muro qualsiasi parte ti butta fuori e non è la pista che comunque te la puoi giocare a una visto mi ha fatto un destra qua strano oggi il volante non è dritto ma un po' storto guarda e non so ciao easy forza ferrari yes sempre su pretta e su pretta oh ha ha è quella con la parabolichina rossina adesso me la ricordo qual è caspiterina allora fatemi capire perché quando dal dal gioco mi passa al pad mi fa mi scala o mi aumenta la marcia questa è una cosa che dovrei veramente capire comprare mazzare la ferrari grande allora io le ho comprate tutte e sono tutte bellissime tutte bellissime tutte bellissime diciamo che noi anche per il canale le sto comprando tutte quindi adesso sto cercando di comprare la sto cercando di comprare la Shelby da 20 milioni amico mio Tom si si è un po' si può grande grande Tom se non ricordo male c'è una curva bastardina qui ma caspita vedi guarda mi scala in quarta mi scala quando comincia non sto capito perché mi fa così eh frac caspita un giro non dico perfetto perché non era perfetto ma ci stava dentro di brutto pacca bo pacca bo con la manina ciao amici e amiche di Twitch benvenuti ragazzi pomeriggio di patente pomeriggio di patente e mi raccomando fate gli augurozzi alla vostra mamma mi raccomando buona domenica a tutti in relax chi è tornato dal lago chi è tornato dal nulla perché piove dopo un bel filmettino ci si vede Marco Drums Games orca belle e veloci queste curve belle e veloci e questa è la seconda è qui il difficile che sono veloci ma poi ti arriva quella stronzetta che è un po' più lentina dovrebbe essere anche alla fine nooo 039 si ma è 2 il tempo 3 secondi 3 secondi è una curva non è niente di che dai proviamo proviamo amici miei ecco questa se voglio possiamo fare una cosa aspetta vediamo un attimo quinta già lui non gli scala eh già partiamo male ah qui butta tutti una 180 cosa? e dovrebbe essere stato ok vai grazie grazie ma sei meravigliosa la mia acqua è proprio in culonia grazie ah 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 si che dopo corriamo corriamo di brutto con lo sprint io ragazzi dovevo vedere come la faceva lui stavano cazzeggiando mentre facevano la dimostrazione di come prenderla vabbè ma chi se ne frega io voglio vedere solo la fine qua la prende tutta in sesta senza frenare vedi e senza mollare eh quasi ciao amici amici di twitch grandissimi amiche di twitch buona festa della mamma buona domenica eh buona giornata insieme a valutazione patenti Tokyo sopra questa la fa inquatta lui quarta in quarta quinta qui la prendo meglio io qui butta giù in quarta vedi ok dai volevo sapere l'ultima curva come la faceva ciao amici amiche di twitch benvenuti 1.53 1.53 a 7 secondi ah ok perfetto ragazzi chiudendolo non ho ah vedi che sorta quando gli do il no poi va bene ma è così è dritta speriamo di no però stiamo giocando tanto dai ragazzi verso verso fine dell'anno arriverà il fanatec quello figo me lo sento lo compriamo il dd pro pelo eh oh ho 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 si ieri sera io l'amico charger abbiamo fatto un po' di online ragazzi ci siamo divertiti un botto abbiamo fatto una pista che non facciamo mai di solito nooo e 212 ah mi bagno le mani amici pensavo già di averlo fatto passavamo un'altra pista che è frac cartita 212 ragazzi neanche fare boom 212 eh si frac c'è andato un po' salutalo salutalo grandissimo frac francesco che era in live stamattina su youtube ciao augurone la mamma si nooo grazie mio amore grazie 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 non so se li devo scalare in quarta c'è questo punto che mi manda in paranoia cervello si può fare tranquillo infatti mi sembra che sto andando come una belva però caspita beh ma è un secondo calocca ragazzi ma dove lo recupero un secondo per me è questo qui adesso provo a correre col pad è quello lì che mi butta giù la marcia è un secondo e qualcosa ho visto adesso quello col buuu eh non so a volte lo fa a volte no a volte mi parte in quarta quando facciamo l'online io sono lì tutto bello schiaccio in quarta ciao Kevin il volante ciao Kevin buongiorno amico mio mia moglie mi ha detto che mi comprarà il fanatec no no prima o poi compriamo il fanatec prima o poi molto più poi che adesso ciao Kevin grande frac dai Kevin dopo ci facciamo un online ddpro yes baby non adesso però è il fanatec è un volante che è semiprofessionistico sul sito della ddpro devo tirare giù un secondo amico mio ma non riesco a partire dove sì buongiorno 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 E' veloce e poi ci sono due punti che è veramente lento Aspetta voglio provare ragazzi allora devo fare così perché voglio giocare Coolpad Ciao amici amici di Twitch benvenuti ragazzi buona domenica buona festa della mamma a tutti Brutta 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 eh si devo fare così quando lo gioco col pad è incredibile Ok amore mio Ciao amici amici di Twitch benvenuti ragazzi iscrivetevi nella chat così vi salutiamo Iscrivetevi al canale buona festa della mamma a tutti e buona domenica Patenti Supra Va va ha un toccato dentro al langurin ciao ragazzi sto giocando col pad perché voglio vedere se non riesco a recuperare pochissimi bus prime ma è una questione di volantozzo o una questione di marcozzo tanto quella col pad riesco a farla in quinta con il volante o la tiravo a quarta no io tiravo a quarta col volante quella lì a quarta sì quella a quarta eh penso anch'io ma caspita ma taglio dentro non vedo la macchina ciao ragazzi dai che dopo andiamo a farci una garetta il corico è tuo oggi amore mio? ok perfetto aspettiamo Shardel per farti vedere la sorpresa che è fantastica bisognerebbe vedere la velocità della dimostrazione perché con quella tu essendo lì che non corri tu riesci a vedere di più la velocità e mi dici quali le curve che le faccio più lente perché è tutta una questione di velocità adesso eh perché voglio recuperare ciao amici di Twitch benvenuti allora vediamo un attimo guarda eh qui sui qua sesta e qua ci siamo qua non ti ha più scala dovrei dire c'è che era in quinta lui 190 all'ora è quello che bisogna vedere la velocità ma cosa c'è ok qua è piena quindi quello che è quindi lento eh qua non dovrei mai avere questo tipo di velocità 100 100 la piena 80 ok piena a piena si va in quinta non lo valore è possibile ma fa in certo quarta 100 160 160 170 fa questa ciao amici amici benvenuti ragazzi proviamoci anche noi la prima da quinta sui 180 190 eh vedi eh sì ma sono un secondo andato è qua che l'ho perduto forse non è un secondo sono sei millesimi dopo quattro dopo cinque vanno in un secondo se non secondo è niente uno fatto eh vedi certo eh ho capito ma lui non è neanche a metà però troppo troppo ma tendo a tagliare troppo con lui cacchio eh ma non è fattibile non è fattibile come dice lui cacchio ciao amici sbagliata perché è andata in quarta porca lochina lochetta lochetta porca lochetta cioè vedi voglio fare come lui allora come quattro guido io riesco poi guardo i filmati e voglio imitare no provo a farlo come dico io 160 ho perso 20 all'ora hai capito perché l'ho perso già qua è è andata ma sta macchina non ci sta ma no amore il pallino è qui ma è qua ma no perché lì arrivi da lì amore mio bello già lui ti porta di là vedi che lui ti porta fuori il pallino eh 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 c'è cambia ero dritto questa 190 non la faccio dai facciamo l'ultima un paio di volte ragazzi poi cambiamo pista perché mi ha dato dai cacchio mi butta giù anche incredibile proviamoci proviamoci The Show must go on terza terza un paio di eh insomma vabbè eh insomma l'ultima l'ultima giuro giuro l'ultima perché non si riesce a cavare un ragno dal buco qua allora già mi fa questo problema della marcia iniziale che non parte già bene 160 ma se scendo troppo raga è troppo vediamo un attimo poi andiamo a farci una mega garetta grazie a tutti ma no ma è ridicolo cioè ma dove sbagli ma io guardo non in terza asciugando dritto se do gas non ci puoi star sui 190 lì è impossibile capito eh no vai a battere come fa lui lui vedi che lo prende tranquillo senza striderle gomme senza far niente ma no non è fattibile ti porta fuori a lui lo porta dentro quando fai i cosi a lui lo porta fuori se tu devi andare a destra è tutto a sinistro vabbè dai famo l'ultimo giuro l'ultimissimo sprite quello che viene viene bene andiamo basta vediamo un attimo la classifichina Mirko, Costantino, Mosca, Corzui, Tuzzo bravo, Quinto Monster grandissimo vabbè dai dai sono quindicesimo per adesso mi accontento andiamo subito a fare una mega guardate che bella la mia tuta amici miei iscrivetevi al canale Marco Drums Racing ragazzi iscrivetevi al canale facciamo questa oh mio dio no 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 questa con la Yaris senza daster dasterato con i salti questa qui la vedo già un disastro allora ragazzi quando io gioco con il pad mi giro tutto ciao mamma un bel caffèrino auguri a tutte le mamme ragazzi auguri mamma si si auguri 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 un caffèrino mamma si si perfetto fai quello che devi ciao 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 questa se mi va bene è stata fortuna eh Non ne ho fatto niente Tutta la macchina Ma perché esci? Ma ma perché Scusate se ho urlato Sì Non ha fatto nulla Mi è anche andata giù a cuore Oh la 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 Iarissina cosa fa Cosa fa Proviamo a farlo col volante Ciao amici Amiche di Twitch Come viaggia Allora sta Iariss che non ci siamo Vedi che quando lo fa Lo fa solo in certe cose Allora sta Iarissina cosa fa Come si cade così tanto in terza Allora sta Iarissina cosa fa e questo quando lo facciamo 1 e 25 e 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 quando lo facciamo 1 e 25 mia stai aris ragazzi mi farà morire 150 miliardi di prove mi storto tutto mi viene da stortarmi ragazzi anche voi vi stortate quando giocate con pad pad ci lascia più liberi ah che non riesco neanche a vedere quando mi storto così è più forte di me però no c'è ma fatemi vedere un attimo la dimostrazione scusate perché qua si sta parlando lì si se lo fai tu esatto guarda tutto dritto l'ho fatto tutto in quarta dai ridicoli si va 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 senza una sbavatura guarda se lo fai tu con questa macchina di questa baracca va tutta sto va 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 in terza la presa ciao amici amiche di Twitch ragazzi stiamo tribulando un po' con stai aris che se la fa il computer in dimostrazione sembra anche una macchina bellissima la fa tutto sul verde poi tra l'altro è che non va un cavolo se tu vai sul verde si si esatto brava terza qui si si va 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 eh si in terza tra l'altro la fa se vai in adesso ci provo vai su verde vedi che la salta l'aria fa anche i saltoni così lui ma tranquillo tu fai il salto ti va in Africa si su verde su verde vai a montare l'erba proviamo proviamo vorrei capire anche chi è quel Mirko mio amico che ha tutti i record tra l'altro su verde su verde su verde che in quarta fa eh si guarda che roba guarda che roba a me si va sempre su verde vai su verde si si questo verde fai tu bambù ah santos domingos santos domingos si 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 fa vedere cose che in realtà non si possono fare neanche nel gioco ciao amici amiche di Twitch scrivetemi eh scrivetemi in chat così vi salutiamo ragazzi va 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 come salta va come salta va 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 ma come è possibile mi sa che rally oggi grazie grazie mille mamma grazie 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 buona continuazione buon biscottino tutti ragazzi buon cassetto ho buon 안나 vediamo cosa sta invece quarta seconda ciao amici di Twitch buon caffè a tutti buona festa della mamma buona domenica da Marco e Carla e Olivia Olivia dorme sempre Olivia col batuffolo qua che vedete qua in mezzo terza tanto terza usa che buona da qua proviamo noi dai ok stavo mettendo il TCS e questa macchina fa veramente schifo ragazzi mio Dio la Sherby io voglio anche comprare una Sherby da 20 milioni no no yeah no 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 ah si bellissima mamma mia ragazzi io mi ricordo che avevo fatto tutto dai ma sei seria solo a frenare parte via ma come è fatta sta macchina no dai ragazzi questa non ce la possiamo fare fa troppo schifo sta macchina ma io devo capire chi è nella mia lista amici Mirko cioè devo proprio capire poi direi di cambiare perché troppe patenti in un giorno solo ma no ma sei serio avete visto quella combinata non è tornato dietro volante oh signor sta già rompendo scala di marcia ciao 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Che scala. Ciao, Jack! Grandissimo! Come stai, amico? Ho un po' di problemi oggi. Buon pomeriggio di corse, grandissimo. Dai, che siamo iper mega pompati per la Ferrari. Non tutti tengono per la Ferrari, però dai, bella giornata. Speriamo anche per gli altri sport motoristici che vada bene. Noi ci corriamo con il nostro Gran Turismo. Buona domenica a tutti, buona festa della mamma a tutti. E mi raccomando, mi raccomando di seguire Marco Dran. Stasera volevo fare qualcosa di diverso, tipo Formula 1. Oh, non si può prendere, beh, è una macchina Formula 1, non si può prendere i corpi, effettivamente. Ma siamo seri? Siamo seri? Manco sono entrato nel bronzo? Non si può prendere i corpi, effettivamente. Non si può prendere i corpi, effettivamente. Non si può prendere i corpi, effettivamente. Dai, scemotta. Vabbè, nuovo record ci sta. mamma mia ragazzi voglio fare gare normale non ce la faccio più ma sei serio ma adesso non tiene più la formula 1 una onda una onda Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1.12.6 è un recordone, è un recordone ragazzi, gran record, bronzo, wow, strafigo. Da dentro è veramente impossibile. Da dentro questa qua, io gioco da dentro raga ma... Da dentro è impossibile. Grazie a tutti. Oh, sono uscito un pelino troppo ragazzi. Adesso andiamo a fare un po' di rigare perché mi sono un po' stancato anch'io, sinceramente. Ehm... Vabbè, via, 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 via. No, voglio solo vedere per curiosità ragazzi come lo fa lui. Cioè lui non li prende, non li parte, questo perfetto. Ah, la fa pieno la fa. Ehm... Fa pieno anche a questa. Ciao amici amiche di Twitch. Fa pieno anche a questa. ma dai ma non è possibile il gioco non si può fare a pieno quella lì ma come va a farla piena si si può perché allora lui fa pieno questo vabbè ma lui ma lui è lui è schumacher non so pilota automatica è computer quindi qui la fa pieno lui potrebbe riuscire lo faceva che la faceva in quinta a me butta fuori ma va a quel paese vai a quel paesino ferrarino ma ondine già sono lento dai un'ultima raga dai poi andiamo a fare davvero gare perché qua mi sto indubbiamente nuvolando il cervello ciao Quella è da quinta, qui era già in sesto a lui. Vabbè, 1.99 record, andiamocene via. Mamma mia, l'ultima ragazzi, io so perché ho visto anche altra gente farla, è qualcosa di veramente incredibile. L'ultima, questa qua è una cosa incredibile. Sull'acqua è una cosa, proviamo a farla, metti buscio di fortuna oggi, che la faccio una volta sola. Ciao Sharder, adesso andiamo a vedere la cosa, amore mio, è arrivato Sharder. Sono quasi le 5, poi andiamo a farlo online. Amico, ho provato a fare le gare, a parte una che avviamo... Oh, ma questa, sono a fregare! No ragazzi, io l'ultima, questa qui, ho visto gente veramente impazzire, anche youtuber che non ce l'hanno fatta. No, ma dai, ma è ridicola, ma come si fa a correre un rottame del genere? Catorcio! No, ma dai! No, ma dai! No, ma dai! No, ma dai! ma la porca ciao amici gradissimi c'è musica io però se non basta un minuto neanche facciamo formula 1 ma questa qui e ho visto anche un sacco di gente che l'ha fatta no no questo è uno schifo ma va c'è anche l'acqua sul fianco e non metterti comoda che adesso corri e siamo no dai no stasera facciamo formula 1 ma questo è qualcosa ragazzi di veramente assurdo veramente assurdo ma come si fa a fare sta schifezza ma va va voi non potete capire che questa macchina non gira non va dritta non frena peccato che devo ristallare non ce la fai a ristallarlo da adesso a stasera a shard quello che sa ah ok ok vabbè la prossima volta stasera è una prova voglio vedere se funziona se per caso non entra nessuno non lo posso più ma dai ma perché ma perché ma perché che eri dritto eri dritta macchina mamma mia ragazzi questo qui è sarà la mia il tallone da kiddo ma dai ma si può fare una cavolo di patente così va 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 ma non frena ma che roba è ma che rottame già un porsche è un rottame poi ci mettiamo anche questo devi frenare prima cazzo la faccio fare a te che ti piace il nuvolo il nuvolo non è che è il suac di oggi oh però sì eh ho capito andiamo a 3 minuti e 20 come quello che ho fatto no no non gira non frena non tiene se stai un pelino fuori da sto schifo di cosa qui che c'è qui si gira anche sul dritto incredibile poi sicuramente se vado a vedere la dimostrazione la fa come se è una stupida va 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 non sta dritta quando acceleri va 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 dai e smettila via via basta assurdo voglio vedere la dimostrazione tanto per farmi arrabbiare ancora un po' di più vediamo vediamo la dimostrazione va guarda a 100 metri frena avete visto ragazzi eh guarda va dove vuole tanto per lui non c'è le cose strane va 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 seconda tanto lui non c'è l'antimpattinamento le cose strane lui va tranquillo va va seconda eh C'è un dito a fare il circuito, figurati... 100 eh? Non fa come lui, è ridicolo, lui arriva a 100 metri, frena e tu lo fai e vai dritto, cioè questo che è la cosa che mi... Se io faccio come lui, lo faccio uguale, ok? Io ho frenato prima di 200 metri, lui quanto ha fatto? 100? Ciao amici e amiche di qui, allora lui butta giù in terza... Sì, ma lui non gli fa queste cose qua, capisci? È incredibile amici! Sì, allora il computer non fa queste cose incredibili, incredibili direi io... Dai andiamo con la mia sensibilità Marco Dranz Games... Parcellini, 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 parcellini... Ah, ma devo mettermi dritto, tata... Eh, eh, se no se metti sul torto, ma come... Hai visto come ho fatto? C'è del marchio in Danimar... Eh, 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 sono tarocchi i video, ok? No, perché mi sto... Salve lord! Ahaha, lord, vito mio! Grande lordino! Va, 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 va a quel paese, va a quel paese... Ciao amici, andiamo a giocare, andiamo a giocare, dai... Sarderino, ti fai l'online? Allora, ne faccio solo una ragazzi, per farvi vedere che non sono un monomano, che non ce l'ho... Che erano solo le patenti e solo... Eh, è vero, è vero, sono... E sono... Sono capaci... Guardate, no, facciamone una con questa, guarda amore... Guarda la mia nuova libreria... Amo... Oh! Questa è una sorpresa, guarda... Oh, che bella! Me l'ha fatta... C'è l'oro! Sì! Oh, guarda amore... Mi piace con la mamma... Guarda... Ciao ragazzi, auguri a tutti, sì, 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 per la festa della mamma... Auguri a tutti, buona domenica... Guardate la mia nuova macchina, che bella! Eh? Sì, è vero... Devi passare la aula, amore... Sì, è vero... Ciao, lord! Che bella, orvi di nera... Bellissima, eh? Forte, eh? Questa è un'altra creazione del mitico Sharder Design... Guarda che bella di fianco... Tanta roba, eh? Andiamo a correre, andiamo a correre con questa macchina... Forte! Super bella! Allora, visto che vi faccio sempre trial montage... Dopo giochiamo online, se ci sei, Sharder... Facciamocelo un'altra... Facciamo Deep Forest... Dai, proviamo tutto... Allora, io ragazzi, ho il volante oggi che non è dritto... Il dritto sarebbe qua... Quindi non so se si è scassato... O che cosa... Spero di no... Perché è il DD Pro della Fanatec... Volevo comprarlo molto più avanti, eh... No, no... Che coffa? No, adesso lo facciamo vedere, amico mio... Quando... Quando ha dei posto il suo... Perché se no vincevo la gara adesso... E viene fuori i bragali... Eh, eh, eh... Ma no, non è questione di dare la vittoria... Non dare la vittoria a morire... No, non so... Shard, Lord... Volevamo fare una live su Formula 1 2021... Cosa ne pensi? Come idea? Una nuova... Bella? Ok, ci sta... Stasera volevo fare proprio... Sul Formula 1... Vedi che cazzo... Ormai ha parlato... Ah... Marco non me l'aveva dato niente... È stato bravo... Più bravo di chi... Gli ho detto della mia livrea? Non l'aveva dato la livrea... E lui mi ha dato del mio carto... Ah, bravo Sharderino... Sì... Che sorpresa, eh... Sorpresona... Ahaha... Lui non mi ha detto niente, eh... Niente, niente, proprio... È bellissima questa livrea... Sì... E infatti voglio vincere... O comunque voglio fare... La fine gara per farvela vedere, ragazzi... Sì... Fabio? Sì... 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 a parte che c'è anche su series x però il problema è streamare su series x devo farlo con obs ho visto stamattina che ho avuto un po di problemini però forse se c'è il cross amico mio puoi anche giocare anche tu dai un'occhiata se c'è il cross no il cross gen cross play come cacchio si chiama tra playstation e xbox è informati lord sennò puoi giocare anche tu eh speriamo beh si più siamo più ci divertiamo raga è bella anche la bitola eh tanta roba anche la bitola ma la bitola sembra proprio di avere un giocattolo proprio fermo e stabile su barino un po devi lavorare provare dovete prima giocare con la bitola provare sono lì la subaru un po di più con la bitola no la subaru andava un periodo di più della mia sono gli adesivi buona festa della mamma allora ragazzi ci attacchiamo eh così però sto stronzone ce l'ha fatta eh ma non ce l'avrà vinta non l'avrà vinta vai una mega vittoria ragazzi andiamo a vederci il un baciozzo amore mio che bravo due tatozzo bella lì guardate la livrea amici ma e poi bello che ha il suo stile guardate il casco ragazzi eh belli casco e tuta grande charter davvero e eccola qua la vedi subito capito guarda che roba incredibile si e poi quando andremo online tutti anche chi mi si punta dietro per superarmi per buttarmi fuori vedrà marco drowns games capito bellissima proprio ragazzi ciao chi c'è olivia non sta dormendo sta guardando la gara eh si assolutamente si no è bellissima charter adesso vedrai la reaction di carla devi fare una reaction tipo ah così lo mettiamo su non si fa nooo caspita lord stamattina sono andato in live su youtube lord con track track to yomi track track to track yomi che quel gioco lì eh di samurai molto bello molto bello lo consiglio si e oggi pomeriggio ho fatto sim farm 2022 il simulatore di farm ciao amici guardate la gara vinta eh si è carino è carito e sim farm invece a pagamento ma l'ho comprato con i rewards quindi uuuuh freno incandescente guardate che mitica la libreria ragazzi di marco drowns games solo solo se venite a vedere le live di marco drowns games potete vedere queste libri fichissime di shadow design eh madonna veramente è stupenda ogni volta che guardo i video ragazzi proprio del gioco è fantastico della mio marco drowns games e bragali è fantastico le live che facciamo sono fantastiche e le libri ciao giuli guarda la libreria che mi ha fatto charder giuli guarda che bella come stai amica mia tutto bene dai 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 ci siamo parlati prima tutto bene tutto bene grandissimo grandissimo ci siete mancati un botto eh giulia e lord grandissimo animazione della chat simpatia moderazione un po' tutto un po' tutto grandissimi ragazzi oh si si dai oh bella cosa questo che mi stai scrivendo è ancora più bello della libreria di shadow che ti stai riprendendo bellissimo bellissimo ok ok amici miei grandissimi amici e amiche di twitch mi raccomando ringraziamo sempre twitch che ci fa fare queste live fichissime insieme ma guardate sta macchina ragazzi di grea fantastica ok anche noi ti vogliamo bene vi vogliamo bene tutti amici miei quando diventate nostri amici siete fantastici eh se entrate scrivete nella chat così vi salutiamo amici miei eh e amiche perché arriva anche un sacco di ragazze da noi eh si 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 anche noi anche noi giuli e buona festa della mamma a tutti buona se siete mamme se invece non siete mamme alla vostra mamma eh Marco il divanatore esatto mancavano queste cose eh il divaricatore ah 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 no ah 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 che bella lampata che ho fatto guardate che bella la mia livrea adesso ho tre macchine eh poi il mitico Sharder penso che farà una livrea anche perché lui è dentro adesso giochiamo online eh quindi se volete giocare con noi online se vi siete già iscritti giocate e basta se invece volete giocare non siete iscritti al mio canale iscrivetevi immediatamente al mio canale e possiamo giocare insieme eh ok amici miei quello lo conosco quello è la Franco quello con la macchina fotografica quello è Franco eh 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 in cosa qui è in eh in Svizzera che lì l'è Franco l'ho visto oh qui ho ho tentato di buttar fuori il Viper allora normalmente un'azione del genere se la fanno a te tu sei fuori hai fatto quattro giri però il Viper praticamente è rimasto inchiodato già il Viper si gira senza che nessuno lo tocca cioè che gira a prescindere che è una macchina eh baracca però grande 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 Sharderino mi sa che è arrivato qualcosa cosa sta questa cosa dell'app perché a volte il mio telefono ha preso un po' troppe botte mi sa che viene avviato un pasto grande si si ok allora Kevin ha avviato allora oh cacchio lo dico che vuoi mi so non relax fino a settembre e poi mi rimetto in gregole oh brava no ma riposa ti riposa fammi vedere la mia sorpresa ok il dimanatore ci sta si si giuri stai tranquilla fai quello che devi fare come con calma tranquilla stai a casa rilassati guarda Marco Drums Games Channel devo mettere il cavo della batteria se no ragazzi non mi sentite più ok qui è tutta una questione di cavi caverini caverozzi caverotti che sono tutti tra l'altro sotto il mio culotto ok ok allora Sharderino corri con Carla facciamo correre con te amo allora metti il coso lì ok ragazzi allora stiamo mettilo lì dove c'è il coso allora io anche io vorrei riposare dal lavoro ma non si può esatto deve stare tranquillo noi siamo noi siamo ok purtroppo eh si eh si eh si amica mia eh si eh si amica mia allora facciamo vedere giuli 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 dai dai che ti tiriamo su di morale oggi dai amica mia ascolta guarda ti faccio vedere quello che ha fatto il mitico Sharder si guarda eh aspetta giuli adesso arrivo Kevin allora questo è la tuta e il casco che Sharder ha fatto all'amico Marco Drums Games si guarda che roba ti faccio vedere aspetta un attimo che adesso lui si muove e si gira eh perché non è bella solo davanti il fianco è bella tutta si guarda eh aspetta guarda guarda che roba dietro si assolutamente ma deve stare calma per riposarsi settembre poi comincia vedrai che è un attimo sicuro sicuro ragazzi ciao amici e amiche di Twitch guardate 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 che tuta adesso facciamo vedere quella di Carla ok ragazzi vi faccio vedere visto che corre Carla eh guardate la tuta di Carla e facciamo vedere anche il casco amore mio questa è la sorpresa ragazzi chiudi gli occhi chiudi gli occhi chiudi gli occhi no mettiti vicino amore mettiti vicino la reaction dai dopo dopo vai prendere la scarpa dopo ok guarda 3 reaction di Carla ragazzi eh 3 2 1 vai eh adesso poi te lo faccio vedere te lo faccio vedere più in grande eh guardate raga guarda eh ragazzi ma perché Sharder fai le tutte più belle a mia moglie che a me fammi capire scusami un attimo questa è la perfezione guarda mi stai rovinando Sharder non posso comprare il Didi Pro perché devo comprare una tuta mi sa che il Didi Pro salta amore credo proprio di no amore mio perché sta saltando il G923 a fuori di Dali Legnate eh allora vi faccio vedere da vicino eh mamma mia no tutte le volte va sul cuore guarda amore mio te lo faccio vedere da vicino i ragazzi guarda guarda che bello la bandiera è un spettacolo eh si Carla è più brava fanatec hai visto guarda che roba abbiamo bellissimo eh team racing squadra corse e la mia dove è esatto esatto il grandissimo Kevin dai Kevin che facciamo la squadra povero Kevin povero Sharder che deve fare un sacco di lavoro è bellissimo guardate quanti quanti mi piace anche e vi faccio vedere vabbè vi faccio vedere questa che l'abbiamo già vista anche in coso eh grandissima Giulia ti saluta ti saluta la Giulia mi dico Kevin guardate questa che roba va che roba amore mio infatti ho detto solo che mancava eh team racing live on twitch eh live on twitch Marco Dranz Games dai è bellissimo bravissimo Sharder questa è veramente Kevin che auto eh Kevin cosa fai la 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 BRZ e vi faccio vedere la tuta di Carla eccola qua guardate la tuta guardate che bella guardate che roba madonna incredibile incredibile ragazzi sì questa era quella di Sharder facciamo vedere anche la tua la lobby l'hai fatta ok Subaru BRZ sì quella che usiamo tutti questa è quella di Sharder è bellissima anche la sua guardate eh comunque guarda che bella anche la sua eh bella è bello l'oro il blu il nero il casco di Marco ragazzi o no tutte le volte mi grande guardate che bello quello di Marco è bello anche questo eh pulito dietro con la parte blu e rossa è bellissima sì 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 grande Kevin ti fa la libera anche te avrai la libera fighissima che buccio di culo guarda invece c'è la quella di Marco ciao amici di Twitch adesso corre Carla sì 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 arrivo 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 in party guardate che bella dia ah 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 ma sì ma l'avevamo capito non c'è bisogno grandissimo bellissimo dai dai dia dia andiamo in party allora un attimino ragazzi tolgo un attimo il monitor il video perché devo andare accettare il party un secondo rimanete subito da noi devo andare in bagno un secondo eh vai allora ok allora partecipa allora Sharder entra anche tu Sol sta bene vai ok allora ragazzi selezioniamo la macchina di Carla eccola qua questa è la macchina con la livrea di Carla quindi andiamo dentro in multi lobby ciao come stai amico mio speriamo che non si senta con l'eco bene già sento l'eco c'è ancora in party in live prova a sentirmi se si sente l'eco per piacere ciao amici ok ok andiamo a fare la gara online amici miei oh eccola qui eccola qui siamo nella parte online adesso corre Carla un secondino solo entra nella stanza di Sharder Sharder si è collegato amore ti do ti passo un secondo il microfono e il buongiorno e il coso io arrivo subito provo un bagno un attimino poi arrivo su che è lì eh eh raccomando buttalo fuori sai eccolo qua voglio un po' tutto devi passare tu dietro mi metto ma vado a vedere faccio solo subito questa roba si bellissimo sta l'acchina se ne ha guardato non lo devi tirare sotto mamma prima di nuovo ma che c'è scritto sull'icola sull'icola bravo amici sull'icola spingelo settaggio allora connessione non mi fa entrare grande frac adesso sei tu devi parlare e trattenere un attimino mentre vado a mandare un fax negli Stati Uniti ci metterò più tempo ok andiamo a prendere un po' la mano qua questa pista ahia amici miei ahia amici miei il problema il problemozzo non entra no ascolta tu sei dentro Kevin si ahia penso brutta sta pista sta curva provo a fare io la pista che che fisco cosa hai fatto tra il mountain eh vinto e conteni è bellissimo ragazzi abbiamo sempre il problema grande lord grandissimo niente crea una stanza vediamo anche te giulì davvero te lord ciao a Kevin ti sta salutando il mitico lord Kevin ciao lord come va no ma tornando dritto ecco sono da mattino eh poi devo prendere la mano un po' la pista bene dai Kevin ha scritto tu sei comunque in in cosa no Kevin in live è perché ti sta scrivendo la Giulia e lord scusami Giulia c'è la carta aperta aspetta allora ragazzi provate a entrare da noi Carla sta già correndo come è che il signor Shader non sta tanto alla top ciao Kevin ciao Marco Carlina ciao oh ma siamo diventati dei mostri qua fare questa lebrea e grazie davvero grazie davvero ti sto preparando una sorpresa ma Shader è professionista Shader eh sì è diventato un lavoro quasi professional designer ti sto preparando una sorpresa che non fa neanche Marcolino quindi non dico più niente basta speriamo che questa settimana qua sia pronta perché ehi amore aspetta scusate guarda non mi fa ancora male oh vai ciasc che morire no ecco caricamente si ma questa qua che pista è scusate eh dragon ah dragon 3 è stata mitica ieri ok ok sì io questo è un'empaio che non mi fa si non mi piace oh questo è un'empaio si non mi piace chi non mi piace ci siamo un'empaio che non mi piace Ma io sì, che è a entrare? Io no Sono morta Eh ma solo con Marco è il suo problema Chissà come mai Sai come mai abbiamo questo problema qua con la rete? Ah poi c'è anche i ragazzi che giocano Stiamo consumando wifi a Google qua Eh sì, c'è anche sua mamma, gioca di brutto e fa merama Devi concimare i campi, dare da mangiare le galline, ma scherzi Qua passano giga e giga di roba Ma vabbè abbastanza giro, ma fammi a livello che hai due danni a parte di più Eh sì, lei fa a far merama E gioca da parecchi anni, è grandissima Ha una fattoria che è una roba allucinante Mi fa quasi, è presente per lavoro Durante la giornata È una figata mia foto Bisogna farla conoscere azienda agricola quando capita Perché sa levare gli animali di brutto Perché sa levare gli animali di brutto Oh, va che io non sono come Marco, non riesco a leggervi ragazzi, eh Scusate Se lego ha visto cosa succede, poi muoio Ah beh, neanche Marco, c'è a leggere Eh no Eh no Sono io che leggo per lui, lui fa finta di leggere, sai figo Scusate Un momento leggi quando fa curva Non è quando vai dritto Lui leggi quando fa la curva Ahahah Io si guarda, faccio cadere l'occhio da lì, vado dritto da qualche passio Sì, 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 fai così E non gli hanno fatto così Fumola 1 l'hai preso, Shotzer? Fumola 1 l'hai preso? Fumola 1 l'hai preso, ha preso? Marco non si sa doveva cantare Marco è l'altro, la metterà Esce tra i miei amici, diciamo Non è che possiamo farlo uscire, la ciro Un po' non è fatto di gameplay Sì, l'ho visto in storia di video Però diciamo che sono... non è giocosimità, troppo. Sì, scamparata. Sì, certo certo. Sì, il menu cambierai. Il menu è andato a scegliere lo stesso. Qualche cosa devo fare? Ok, bravo Carlo. Oh, ma che bello che ho fatto lì, eh. Guarda. A me non sembra, mi ha dato il cosino di... ... ... Oh, bello anche buita. Oh, bello. un'altra che è finito? che è finito? che bella cura del paz no 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 la copia è tua perché se eri qua mi dicevi di frenare prima quasi stavo facendo un poveri anni di cristo giuri guarda che roba ce l'ha il dottorare non riescono a entrare da noi no non riescono a entrare oh raga non riuscite a entrare no ma c'è gaming da me aspetta aspetta che finisce la gala io dicembre salgo a livello 36 e mi volgo con il poco nello stadio finale e perchè a dicembre siamo 1,44 bravissimo ah seconda ok va bene che anche di terza scelto difficile eh si fracca è vero vero e quello è nato dicembre ah ok ah ok ok forse è nato dicembre aspetta ti faccio vedere io non ho il gas guarda no no altro che gatto lord hai visto? ahahahah frac grande marco aspettate raga usciamo e vediamo se riusciamo entrare dal mitico Shardel perchè stiamo facendo una gara online senza che siamo online non è un po' un po' ridicola la cosa no? un po' strano se no eh facciamoci un offline che è meglio allora vediamo ragazzi se riesco a morire oggi poi poi sei meglio dai ok grazie amore mio devo assolutamente andare in palestra ragazzi si dopo che ha fatto scadere il l'abbonamento devo andare in palestra ahahahah ahah sei anche tu sagittario io sono io sono Toro ragazzi oh ragazzi stiamo parlando di compleanni io faccio gli anni il 17 eh se volete vi do Liban beh non ci so mai Liban al 17 faccio gli anni insieme a voi è un bel abbonamentino Prime ci starebbe dentro eh ragazzi è arrivato l'altro ma ti sto facendo le livrea gratis sfruttamento ti pago oh siamo entrati ragazzi siamo entrati che vai hai visto doveva arrivare Marco Drums il capo games dai che fa molto tempo dai ragazzi un bel regalo di compleanno a Marco dai non basta che mi fate vincere tutto il giorno eh non basta ahahah io il 2 dicembre lord il mio è passato ormai hai 7000 emoticon un frac consumale subito fai qualcosa di fighissimo eh se c'era Sharder faceva un sondaggio caspita Sharderi eh scusa Sharder mi confondo se c'era la jury e lord il computer faceva un mega sondaggio loro sono veramente bravissimi a fare i sondaggi e i cosi come si chiamano al sondaggio quello dove si spende i soldi il pronostico il pronostico il pronostico ma spendili spendili sti sti miticoin non lasciarli in sacoccia perché tra un po' di anni i pronostici si i pronostici bellissimi metti in evidenza un tuo messaggio spendili spendili sti soldi grandissimi io pure faccio un regalo per tu mi vieni un po' di anni che faccio il 26 ottobre assolutamente si amica mia assolutamente si assolutamente si adesso al 26 ottobre mi dimenticherò sicuramente però tu devi ricordarmelo ok che facciamo una festa una live con la festa di compleanno della Giulia ed è il lord anche di Shard di Kevin quando ci dite di tutti di tutti mi è passato dai eh sì quelli passati li facciamo l'anno prossimo ragazzi tanto non smetterò di farlo youtuber mai mai più mai più eh certo amica mia eh quindi quando fate gli anni lo dite che vi facciamo gli auguri ci sono gli occhiali simpaticosi simpaticissimi ecco ecco facciamo tante torte sì 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 ragazzi dite tutti gli anni eh così facciamo facciamo tanti tante oh amore mio seconda tata seconda quella seconda amore mio lascia stare l'elicottero lascia stare il fucile che tira giù l'elicottero stai calma sì 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 grazie ciao ciao giovanni allora giovanni domani sera aspetta che vedo se mi ha confermato il tutto domani sera facciamo warzone eh va benissimo benissimo fa gli auguri a tua mamma eh mi raccomando eh a tutte le mamme auguri a tutte domani sera warzone ti aspetto giovanni e chris mi raccomando con ehm il mitico morris io poi forse c'è sharder poi forse c'è michele quindi domani sera sarà un bordello ok i soliti bordelli che facciamo noi quando dobbiamo giocare a warzone perché c'è troppa gente mi raccomando servite al canale grande giuli grazie mille come regalo ci facciamo una eh sì sharder e si lord la mitica playstation 5 devi cercarla ci erano aperte al game stop oggi eh mi sembra o ieri ho visto la pubblicità bella frac bella giovanni grandissimi ragazzi bellissima la nostra chat che scrivete e e scrivete anche tra di voi eh e viva e viva e viva vivissimo grandissimi ragazzi eccoli bravo giovanni bravo grande amici di twitch come dice la giuglia ciao amici di twitch come dice il marco vi raccomando buona giornata a tutti se non siete iscritti iscrivetevi al canale se siete già iscritti fate un bel abbonamentino se volete no 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 non devi se la sbagli sempre tata ma ma devi prenderla bassa quando sei a metà dai gas prima no prima esci ma tu quando vedi che esci perché non togli il pedale non l'hai tolto mo io lo vedo lo vedo le bugie allora giuli adesso ti spiego il fattore fattore maglietti no non troppo sportella carla assolutamente assolutamente allora per il fattore magliette è un disastro mi hanno chiesto un bordello luna quasi 15 euro a maglietta si un botto di compiti da fare eh si 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 un botto di compiti ah no cacchio fra che palle sti compiti allora il problema delle magliette è che fanno pagare 15 euro luna un botto veramente tantissimo non bisogna o farle fare tipo in Cina in Corea in Thailand e una roba del genere se no qui in Italia costano veramente tantissimo ho sentito 4 o 5 cose diverse ah ho visto poi anche un'altra cosa fighissima che è il 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 merchandising no si 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 assolutamente quindi dovrei eh 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 c'è 10 magliette 150 euro siamo siamo fuori dal mondo eh e il discorso e tra l'altro mi sta forse partendo pure il volante se ho spese anche per cambiare il volante con il DD Pro della Fanatec eh eh va bene si grazie eh no 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 Giulie siamo fuori se no le avevo già fatte e e stavo pensando già a spedirle gratuitamente ai primi di tutti i miei amici e poi a venderle anche perché chiaramente e poi alla fine è quello che devi frenare un po' prima amore è un po' come quello che quelle la che sto facendo io quello per mamma mia ragazzi e allora praticamente Giulie ha bloccato tutto no? poi tra l'altro Thoradin non si sta più facendo vedere pochissimo poverino col lavoro una roba in altra e ho non so più neanche se lui ha cercato qualcuno per farle perché anche credo che anche lui è un po' bloccato un po' fermo col lavoro quindi mmm frena 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 seconda seconda non hai frenato in seconda eh ma vai piano ma vai piano vai troppo piano tu devi buttare la seconda freni poi quando vai dentro seconda terza e vai esatto 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 grandissimo vedi ecco e sto lì anche col computer e tutto quindi capito ragazzi è veramente troppo però c'è il merchandising di streamlabs ok e sto vedendo che ti fanno loro praticamente tutto magliette tazzine cappelli no? perché ho visto anche l'amico che lo faceva ecco grande olivia che ha aperto tutto e ha fatto un casino chi è che c'è in cucina mi può chiudere la porta? per cortesia c'è troppa luce così e praticamente il discorso è questo qui no? che c'è il merchandising vi chiudi per piacere chiudi proprio chiudi eh amor se no olivia apre e amor tu questa la facevi benissimo eh hai fatto non nella parte online che eri offline che l'hai vinta alla prima senza no no olivia vedi qua eh secondo me io spero che non si sia rotto non torna neanche indietro sai cosa bisogna fare? no tiramogli via la corrente tira via prima dalla play ok tiragli via proprio la corrente la corrente è questa qui tiragli via ok uno due tre quattro cinque dai corrente ok e proviamo a resettarlo ancora ok quando tu adesso vai a dirgli perché devi farlo guarda speriamo che non lo faccia più certo stato? sì non lo so ragazzi perché secondo voi quando gli vado a dare allora lui fa il settaggio ehm eh appunto adesso tu quando fatti la mano vedi che non torna non torna non torna non fa tipo il force oh ragazzi mi sa che mi sia rotto ciao steven grandissimo tutto bene tranne che mi sa che si è scassato il volante benissimo e sta girando da solo scusa lui il volante ha sentito che tu dovevi cambiarlo no dai ragazzi se si rompe il volante è un disastro qua eh ah no sono anche uscito dalla lobby ma dai assurdo eh la storia dei cappellini vediamo perché stavo vedendo per poter fare che lo fanno loro quali di streamlabs bisogna fare un abbonamento annuale e una bella sberla quindi devo vedere se se è così o che cosa non lo so non lo so amici miei vediamo un attimo opzioni ok si eh non lo so non lo so fa cosa un po strane tipo non torna indietro non c'ha il ritorno di forza ora infatti sto vedendo se c'è eh questo è andato dritta le curve per questo eh come diritto scusa in assenza eh non c'è il reset a parte quello scaffone 34 eh prova a vedere la 105 perché praticamente è come se non fa il feedback sapete il true force che ritorna no? che ritorna sempre se tu lo lasci si non lo so se è questione di rotto che cosa adesso provo a vedere su internet se trovo un qualcosa che parla di un reset magari se c'è un reset oh 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 senta allora la questione cappellini tazze eh magliette pantaloni tute felpe eh col marchio marco drums games devo capire un po' come farlo con streamlabs assolutamente sia amica mia mi raccomando lord mi raccomando lord eh ciao amici e amiche di Twitch buona domenica buona festa della mamma il volante si sta quasi rompendo quindi è un po' una giornata tetra perché ad arrivare al Fanatec TD Pro non si può farlo subito anche perché dovrei fare finta che il mio volante funziona e venderlo ahahah quindi un altro ragazzo che lo comprerà dice ma come mai sto volato la tutta a destra ah il Kevin che prende dentro mia moglie vai addosso ahahah guarda ti è andata bene che ho preso adesso bene la curva che non andrà ai posti lui si dissocia non male che stai dubbendo a lei eh eh si è Kevin è Kevin sta muto Kevin quindi sta di aver fatto la cazzata ahahah guardalo guardalo ahahah mi spaventa eh ma Kevin ci hai spaventato Kevin ahahahahah 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 che l'abbiamo fatto così si va bene ma fatto così e ti hai fatto spaventare ahahahahah ahahah vai un po' più piano ma così finisci il giro non fuori ma hai finito già il giro ah beh si ma sei ultima con un tempo di svinchiera amore dai come dice dai devo dargli una mano a Carla ragazzi aspettate un attimo che parlo un attimo con lei anche se ieri sera l'ha fatto contro un computer da sola senza niente eh è stato bravissimo ha fatto un tempone da paura allora aspettate che ti do una mano poi vi rispondo eh amici della chat grandissimi eh perché mi avete dato un paio di cose che mi sono perso adesso poi vado a leggere prena ok vai seconda terza grande Giulio bellissima quella icona eh non guardare lì eh guarda Giulio eh si che stai guardando ah ah hai fatto eh qui devi mollare e girare vai prendela prena seconda qua ok bravissima vai 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 gas 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 ah ah sono bellissime le mie icone eh ok prena ok un po' molla un po' l'acceleratore rientra molla un po' l'acceleratore la fai ok bravissima dai accelera sono fighe né ma è una cosa che fa il volante strano o destra e sinistra prena ok ok vai gira gira senza dar gas vai vai gas adesso dopo giro dopo fai un po' qui togli il solo gas senza frenare vai non fare cose strane frena un po' gas 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 prendi la dritta la vista adesso devi andare terza bassa o seconda io la faccio in seconda perchè ho visto che è terza poi dopo non riesci a aprire subito prena cosa ok vai c'era il gruppo gira gira il volante gira il volante vai io si voglio andare anche in terza eh però devi devi girar prima quel volante di più io non ho l'assetto non ho l'assetto non ho l'assetto l'assetto di che cosa raga su qua no prena 34 come hai fatto avere l'assetto Kevin questo devo fare un video Kevin che ha trovato un asset per la Subaru ma funziona di brutto Kevin? eh vedi il tempo eh vedi il tempo che ho fatto eh ragazze allora dopo farò anche un video sull'assetto visto il gentilissimo Kevin ha donato ti faccio un po' di visualizzazione anche su YouTube oh se Kevin concorda eh ma l'hai trovato o l'hai fatto tu Kevin? l'ho trovato grande non volendo se uno ci vorrà più meglio di me può fare anche uno e trenta tutto volendo eh devi non andare tutto sul cordolo capito amore mio? grandi ragazzi sta correndo Carla io vi sto sciallando e partiamo per la gara eh ok raga come non ti sciallare? frena 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 mo un chilometro prima che testa a coda lord si è distratta lei guarda il tempo guarda il no fai con un'altra l'ultima ok dai famo l'ultima fatta bene eh come 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 Dio comanda eh ma stai attenta alla strada non pensare di cazzo a me lo faccio a me lo faccio a me lo faccio a me lo faccio e compra inizia a comprarla Giulie così ce l'hai in mano e una volta che ce l'hai in mano possiamo anche posso darti una mano io perché dire questa cosa qua ti compro la playstation 5 per quell'altra roba il problema non è eh comprarla il problema è che non c'è la playstation 5 quindi devi trovare una eh 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 ragazzi la playstation 5 è come una barra un 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 chilo e mezzo di oro trovato per strada eh non si può non si trova eh 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 no dai lord non puoi dire questo ti serve la playstation 5 così legamo tutti insieme lord dai amico mio la xbox è fantastica e col pass giochiamo praticamente a gratis però non puoi dire che non ti serve la playstation 5 dai amico dobbiamo giocare insieme eh lord eh lord vero? vero Shard dillo anche tu eh dai bravissima Carla così bravamo la via rezzetta eh io credo che dovrò prendere eh bravo lord io penso che per far correre mia moglie devo prendere eh un volante coi pedali in visa perché la parzializzazione non la fa parzializzando la fa spaccando il pedale no non ho capito cos'è questa cosa da parzializzazione che fa su e giù come se fosse una macchinetta da cucire vabbè però faceva così mia mamma quando doveva cucire tira su e giù la gambetta su tut 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 quanto è straddia per me adesso ci sono diventato eh infatti quello quello no quello no quello non ancora succe la seconda bravissima seconda sei terza vai non se la metti dopo la seconda è troppo ma voi ragazzi siete riusciti a fare le patenti no quanta prima volta che sto così per farle basta per averla e basta anch'io adesso le storie anche tu anche tu chat infatti ho visto i tempi che sono tutti da da bronzo e argento non da oro qualcuna l'avete moro che voi perché io invece le sto facendo e vi dico che ce ne sono qualcuna che veramente tosta veramente tosta ma io perché vorrei platinare il gioco sinceramente una volta fatta quella lì che la più difficile dopo si deve solo comprare i veicoli ma lì bisogna aspettare che riescano fuori le tre macchine dalle man e poi tra l'altro c'era un ragazzo che non ha chiesto sempre quali sono so quali sono ma poi non l'ho più visto la chat per di quali sono comunque se correndo bene quando non vai a sbattere amore mia è un piacere non lo so giuri sinceramente perché devo prendere il libro vita mia salta tutta la l'ambaradan però dopo ne parliamo ok 700 800 euro quindi ragazzi altro che l'ambaradan vediamo vediamo tutto è tutto in evoluzione perché se magari non è rotto è magari devo soltanto sì magari devo soltanto iniziamo la gara che la commento io ragazzi aspetta che aspetta che vediamo gli altri penso che è stato il tempone vediamo che vi si fa il tempone è giudice non lo so vediamo un attimo comunque se 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 giriamo vediamo trovare una merda tempo piove però ci sta perché fatto è stato il tempo per partire mette da 4 e 1 vediamo shard se ci si 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 è tutto detto che vuoi forte se non ti ti concentri ogni 32 secondi e ci stavo vedendo sharder da me adesso piove da noi sta piovendo adesso però diciamo che serve l'acqua ragazzi serve un'acqua perché davvero i campi erano tutti secchi non stava chiedendo più niente da te in germania che vi come piove di brutto con normale normale piove normale in germania da te a sharder sole ma che culo da voi se persone se il sole e mare primavera non si è vista ragazzi fate il culetto al marcone mi raccomando e ma gioca la carla voleva entrare in galleria ahahah si quell'elicottero lì è terribile ragazzi la gara 10 aprile preparati amore presta attenzione che non è che devi arrivare prima ma però devi ma però non si dice ma io lo dico perché il mio canale si è stato bravissimo però devi essere più costante amore mio riuscire a fare 3 g 5 giri senza girarti che vini non lo so non è partito ma kevin per me è crashato l'ho fatto uscire non era partito e non lo vedo neanche dietro pianino frena 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 non lo so se ci fa sapere che cosa è successo che noi dietro dietro ma è partito la minchia noi lo vogliamo rifare dai rifacciamo non è partito kevin charter se tu che la chiudi la gara ok io sono uscito dalla gara ragazzi uscita anche voi la facciamo ripartire perché sei bravissima amica mia bellissimo stava in cucina stava e che cazzo stavi in cucina che stiamo facendo la pagana kevin ragazzi noi si portiamo la gara e che è in cucina ma continua a stare in cucina è vero è vero e noi a preoccuparci ragazzi può essere una connessione forse riusciamo infatti carla è la parte della germania stessa cosa vuole parte della germania stagini su da germania fin da monaco ciao direttamente al nostro mister legola ciao noi ci siamo anche non c'è come no via via ma non c'è ma perché se ne manca non entra ma no mi dice guarda la gara e basta ciao mister legola sgredissimo che è vero ragazzo non far partecipa scusa 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 adesso si adesso si ciao mister legolas grandissimo come stai come stai buona festa della mamma tutti buona domenica buon gt a tutti sta correndo a carla la mitica bregali e gli farà il culo a kevin e shard perché a un certo punto dovranno uscire per forza facendo finta e far vincere carla no 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 ragazzi dovete giocare normali io devo finire se finisco la gara dai fai un pronostico pronostico terza no senza uscire dalla tutto bene grazie no io credo che sia un pronostico già finito c'è nel senso che non trovo il maro ma lì qua di fianco lo vedete qui oggi ragazzi la parola di qui perché tu stai in cucina mi porti la birra e patatine ma guarighi giuli birra e patatine avverano due una cola quella andrebbe una colina che cosa è successo charles prena 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 questa macchina va un vero oggi che caspita ma la mette a fermato io adesso te la metto come tu vedi la pista amore in mezzo tu devi vedere la pista davanti i tuoi occhi eh sì vedi la pista amore in mezzo ah di fatto tu hai grande grande ok molla no tira tutto devi girare prima mo e adesso del gas bravissima che buona la porchetta è facile quando arriva la Giulie si fa venire una fame della madonna a tutti ieri ho fatto la pizza Giulie 5, 4 pizza e fantastico non lo so non lo so ragazzi perché io facevo una fatica a boia a fare anche anche le patenti si si te l'ho detto 20 volte te l'ho anche scritto buona la pizza ci mancate ci mancate si ragazzi grande Giovanni il polipo è fantastico che praticamente sono riuscito a fare una patente con la Mercedes verde al Nürburgring ragazzi che è stata una cosa incredibile bravo incredibile e si infatti anch'io ho una fame mi avete fatto venire una fame e sono riuscito a fare una patente fortissima difficilissima che era quella al Nürburgring con la Mercedes verde e Olivia non riesce a trovare un posticino oh Olivia buttite così bravo va bene anche la Giulia è strano si 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 è stranissimo in realtà da quando guardo i film ragazzi Oli di solito viene qua il mio amore di fianco il pop core se lei si ricorda quando era piccolina Oli faceva queste cose se le fa anche adesso bravissima seconda brava così si fa e lasciate l'1.36 l'hai fatto con l'assetto e l'aprenda quello prima amore mio vabbè vai adesso gira 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 c'era gira di più il volante ecco l'assetto tra i charder madonna 1.36 1.36 con l'assetto senza assetto bravo 1.35 a Kevin con l'assetto adesso bravo ma che la mando con lui eh si dopo mandalo eh Kevin bravissima Carla 1.37 con l'assetto bravo Sì, sì, sì. Hai visto che brava, Giulie? È proprio brava, eh? Ho imparato benissimo. Grazie, Giulie. Giù ancora un po'. Ok. Vedi come la devi fare lunga? E aspettare. Se invece chiudi di seconda prima, riesci a aprire prima, amore. Devi frenare un pelo in più. Grande, 1,38. Bravissimo, amore. Eh, bravissimo, amore. È vero, Giulie? Ehi, lord, tutti, ne? È bravissimo, è bravissimo. Vai, gira, 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 gira già, gira già, non aspettare che... Sì, sì, è vero, è vero, Pac, è vero, Pac, è vero, Pac, è vero, Pac, è verissimo. Fa fortissimo, Carlo. Pac. Attenzione, attenzione, freno un po'. Ok. Ok. Brava, seconda, oh, che vuoi ti fa? Sì, perfetta. E stai attento, all'ultimo adesso, che se la prendi in seconda. Stai buona, Giulie, è buona. Vai, gas, 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 gas. Mi fa la dritta quella lì, Amo. Vero, Frank. Che ride. Frena. Grande, Carlo. Ho girato, eh? Sì, sì. Frena ancora un po', vedi che sei ancora in terza. Ok, vai, gira, gira, e c'era, gira di più. Quando tu vai lì e ti butta fuori la macchina, tu giri, la macchina tende a... Capito? È finita il tempo e sei comunque terza. Guardate, ragazzi, che mega macchina, che mega tuta. Mamma mia. E non so se devi farla veloce, perché tra un po'... Ok. Mamma mia. Viacchemente ci siamo girati, vabbè. Solo voi. Vabbè. È stata bellissima la gara, eh? Che bella. È? Bellissima proprio. Sì, mi piace il gara. È bravissimo. Ok. Allora, le facciamo un'altra, dice Carla. Ormai gli ha preso il gusto, però un'altra pista tu vuoi fare, mo'? Dice. Un'altra pista, ragazzi, dai. Vabbè, dai, facciamo l'ultima e poi... Dai, sì, esatto. Facciamo l'ultima che sono quasi le sei, vero? Sono le sei. Ah, vabbè, dai, facciamo l'ultima allora, ragazzi. Io devo fare un video, eh, sì. Dai, facciamo un'altra. E anche bella la macchina, esatto, fra... Cosa si può fare? Monza, ragazzi, fai Monza, fai Monza, dai, che è veloce anche da fare. Facciamo un paio di giri e poi facciamo subito la gara, eh? Anche la macchina. È vero, Giulio, è vero, sì. È brava Carla, è bella la Carla, è bella la macchina, è bella anche la tuta. No, non c'è il replay, amore. Io amo questa macchina. La bierezzetta, fantastica. Poi passa il coso, se no ti dimentichi... E' mo' passa adesso. Ma è veramente una gimme, mette il tuo nome così. Adesso c'è il bello vedere la... Allora... Dai, tu ci passi il settaggio e il bitico Shard quando ha tempo ti fa la livrea. Grandi, raga. Io non faccio un cazzo. Gli preferiti? C'è il blu scuro o è il nero? Porca. Il blu scuro e il nero? Dobbiamo un altro. Ah, ok. Grande. Ciao, vamo! Ah, grandissimo amico mio! Buona festa della mamma. E buona domenica. Insieme a Marco Drums, Games Channel, la mitica Carla. Eh, problema del volante. Abbiamo problemi al volante, ragazzi, eh. Speriamo che non ci tiri la cuoia a breve. A parte che potrei anche sentire il servizio clienti, eh. Eh, un po' all'oscuro, no? Eh. Domani quasi quasi sento il servizio clienti. Tu devi un pezzo a cambiare, che va bene. Eh, faccio. Già, c'era il Logite, che serie, eh. Una ditta serie, ragazzi. Se volessi comprare Logite, compratelo tranquillamente. C'era il mouse e il... Ciao, vamo! Grandissimo, grandissimo. Il mouse e la tastiera di mio figlio gaming. Non ti fai di partire, mora. Sì, dai, vai, vai. Che è assorto. Ah, ok. Quelle due scuole che mi avevo... Prima volate... E c'era il mount e il... La tastiera gaming, che è... E... Ho chiamato il servizio clienti. Mi hanno detto di fare una fotografia, mandarlo, condividerla con Google. Quello per condividerla roba, che non vi ricordo più. No, mo, non devi dare gas. Ok? Tu fai la prima, la seconda. La prima, la seconda. Non dare gas, no? Fai così. Devi parzializzare, sempre. Ok, amo? Qui a 150 devi inchiodare, praticamente. La fai in seconda. 150 è qua. Frena. No, è andata. Ok, che ribasso. Sì, 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 sì. Kevin è quello che senti nel party. Cioè, Sharder e Kevin. Allora, per farti capire bene qual è la voce di uno e la voce dell'altro, è Kevin. Questo è Kevin. Saluta la Giulia, così ti riconosce. Ciao Giulia. E invece è Bitico Sharder. Sharder, saluta Giulia. Ciao Giulia. Ok, così riconosce le voci di tutte. E io, ciao Giulia, sono Marco Drama Games Channel. Vabbè, no, la tua voce non ti ha ricordato. Oh, adesso ti ha riconosciuto. Bene, bene, Giulia, ti ha salutato. In terza questa, amore. Devi prendere un po' il giro, ti sei abituata a trial monte. Eh, anche madame la vostra vista. Ciao Sharder, amico mio. Te vede, Giulia. Eh, grandissimo, grandissimo. Giulia, adesso devi frenare a 150. Prenda. Quarta. Prenda. Quarta. Bravissimo. Un po' un quarta puoi farla anche. Gira, gira, gira l'altra parte. Terza. C'è anche Bruschetta, eh. C'è Bruschetta, grandissimo, Bruschetta. Sì, Bruschetta. Grande. La voce di Marco è unica. Grande, frac. Ah, Bruschetta. Prendi Marco, quando giocava lui, è tutto questo. Ah, ah, buttiamo fuori Bruschetta. Ma come mai non c'è? Eh, sì, metti GR3. Bruschetta, GR3. Non solo quello che mi metto. Ma tu lo sentite? Voi sentite Bruschetta voi, scusa? Eh, non sta in fase, ma possiamo sentire. Ah, ok, ok. No, ha mandato un messaggio qua direzione per l'anno. Ah, ok, ok. Cioè, tu ti stai da là, io sto qua. Brava. Bravissima Carla, ragazzi, eh. Grazie. Stiamo pensando di fare una 12 ore Gran Turismo 7. Vero, Amo? Facciamo però pezzi che corro io, pezzi che correrei, pezzi che corre magari qualcuno in share play, quindi facciamo finita. Ce la fai 12 ore? No. Il maratona? Sì, la maratona. Volevo fare la maratona perché ho visto il mio amico, azienda agricola, a far la maratona di 12 ore di farmi il simulator, mi è brutta voglia anche a me. Però farmi il simulator è una cosa, Gran Turismo è un'altra. 12 ore in maratona. T'attorno? Eh, eh sì. 12 ore in maratona. Infatti, la 8 ore non è andata molto bene, Frac mi ricorda che io volevo già farla ieri, ma stavo praticamente crollando, dovevo fare un riposo di domande. Potrei fare la 12 ore riposandomi, cioè, dormendo davanti alla telecamera, ragazzi, eh. Si può fare. Eh, non è che male, dai, che dormo, andando tranquillo. Eh, Amo? Eh, eh sì, fai. Nooo. Se io sono famiglia, mi troverai amare. Eh sì, se ci facciamo vedere che dormiamo, potremmo fare anche 24 ore. Nooo, non è che mi sento un bravo, no. Beh, ma ce la fai, ce la fai. Però che ne ha l'alerta al Citi, però, eh. Eh sì, eh. Nel momento che dormi ti spaventi un po'. Grande, hai visto? Seconda, bravo, no. Ma io non ti vedo dentro nella lobby, grandissimo, Kevin. Sei dentro? Eh, io ti vedo invece. Ah, ok. Ti vedo, ma ti vedo che sei fino nella cuba. Ecco, allora, ecco, ok. Niente, è solito. Solito bug. No, ho fatto appunto. Brutta, brutta, brutta. Eh sì, non è scappato. Ciao amici di Twitch, ti ho cantato la canzone, Giulia. Ti sei raccontato, non mi hai ringraziato. Bruschetta è dentro, grandissimo Brusch. Siamo arrivati alla, quasi alla fine. Sì, un altro giro e poi si parte, eh. Sì, perché sennò diventa tardi, ragazzi. Poi non riusciamo a fare la carne stasera. Oppure non riusciamo a... Ciao amici di Twitch, fracca, grandissimo, fracca. Grandissimo. Io mi faccio venire fame. Ho detto pure la carne. Eh beh, non è che ti faccio venire fame io. È la Giulia che ti sta facendo venire fame a tutti. Grandissimo. Marco, ti ricordo, ti ricordo? Dimmi te. Marco, ti ricordi quando faceva le braccia a noi? Mamma mia. Adesso non più, eh. No, è vero, no? Non ci si stava aumentando più. Eh, perché ci stiamo abituando. È come ci stiamo facendo palestra. È che all'inizio ci faceva male le braccia addirittura. Adesso non... A tutti, anche a noi. Non so, se ti fa male ancora le braccia? Eh, vedi, ci stiamo abituando. Vedi? Vedi, Frac? Vedi, Giulia? L'amico Frac che è già un po' che è da noi. Vedi? Sì, sì, amore, mi ho visto il tempo. Sì, sì, pochissimo, amore. Ma sei bravissima, amore. Quattro secondi da Sharder, Carla, eh, ragazzi? Bravissimo. Guardi! Eh, guarda. Guarda, ti prego. 1.46, Carla, ti prego, adesso. No, ma dico, cioè se si sbaglia sono lì, 4 secondi non è tanto, eh? È vero, è vero. Sì, 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 bravissimo, bravissimo. Impegnati, amore. Se li fai 5 giri senza sbagliare, senza sbattere, sei dietro a loro, eh? Perché è un attimo. Il problema è che quando ti schianti su un muro oppure perdi un po' di tempo, lì hai perso tutto, ma succede anche a me, anche a loro, eh? Anche Sharder ogni tanto... È la verità, Frank, davvero, davvero. No, ma ieri, purtroppo, è perso, è sbandato. Eh, è sbandato e basta. Non riesco a fare un tempo. Comunque, è... È vero, è vero, è vero, no. Ha ragione, Frank, grandissimo Frank. È proprio... Tutto quello che dice Frank lo condivido, grande Frank. Francesco. E sì, quando c'è la Giulia e Lord, le chat sono belle movimentate, sono belle vive, sono... Anche quando non ci siano loro, comunque la gente e voi di Marco Drums Games sono tutti meravigliosi, eh? Però diciamo che quando c'è la mitica Giulia e il mitico Lord... E poi la Giulia è la nostra moderatrice, è la... Viva la Sharder. Esatto, e poi è la... È la top... È la nostra cheerleader. È la cheerleader. Devi fare le cose con... Devi fare un video, Giulia, su TikTok, con tipo i pomponi lì da cheerleader. E che fai? Marco Drums Games channel, Bragali TV channel, Spite lì. Brava, brava. Iniziamo a gara, che non c'è? Dai, dai, inizia, inizia la gara, se no, dai, ragazzi, non riusciamo a fare la carne. Sì, lo giudico. Oh! Dai, sarebbe fighissimo, con tipo cheerleader, no? No, c'è anche bruschetta. Sì, c'è bruschetta, c'è. Oh, io ho fatto un tempo meraviglioso, mi ero qua. Ah, l'ha appena fatto adesso, sì, bruschi, No, dico io. Sì, sì. Ah, 1,46 è il mio. È 46, amore. 1,46, 4,60 è fatto. E l'altro è 46,8. Quindi... Non ho messo io? No, no, no. No, no, gli assetti li faccio dopo, amico mio. Loro lì anche hai visto che l'hai baddato. Eh, ma siete descritti? Eh, credo di... Aspetta, aspetta, aspetta. Dobbiamo... No, aspetta, aspetta, aspetta. Ci sei iscritto, bruschetta? Sì o sì? Sì, annullo la partecipazione. Io sono dentro. Questo è bruschetta. Bruschetta sta correndo con la Mazda. Ecco qua bruschetta, ragazzi. Sì. Ma tu che viene? Quanti mozzi da? Eh, non sto a farlo. Non sono tanto benissimo. Aspetta che sta finendo tempo bruschetta, poi fai partire, eh. Sta facendo il tempone. Sì, mi sto trovando la pista, al momento. No. Ma per il settaggio o...? No, no, proprio io. Ah, ok. Mi scherco, c'entra di bene. Però, un settore ha fatto viola, quindi stava andato benissimo. Ok. Bruschetta è arrivato. Quindi, se vuoi, puoi partire, si può fare. Grande bruschetta. Alcuni già stanno sentando qui. E non fa l'avviare. Alcuni gli stanno facendo il caricamento. Eh, Kevin. Io vedo che è Kevin. Tu sei tipo in caricamento? Da me. Aspetta. Uh, che bordello. Aspetta, non esco, rientro. Aspetta. Prova, prova. Esci e rientra, dai, amico mio. Adesso? Adio! Non lo so, chardera, te? A me mi dice che stanno... Sai che ho fatto il tempo, signor? Sono a massimo, riesco a... Da aspetta, io vado. Solo da molto, vuole che stanno caricando. Esatto, esatto. Bravissima, bravissima, Giulio. È proprio quello che voglio fare io. Una mega famiglia di Twitch. Voi amici, che venite a vedere. Ci divertiamo, ridiamo, scherziamo insieme. E noi, in famiglia, che giochiamo. Perché vedete che c'è anche mia mamma, c'è anche il cane. C'è anche Olivia. A volte c'è anche Leonardo. devo uscire che vittorio ma vittorio non non viene mai perché sa i suoi vinci c'è le sue cose e c'è il gatto la mina aprite chiudete sempre sennò troppo troppo pop the volume pop the value vediamo se entra perché penso che prima o poi ci incontriamo anche da vicino certo certo allora se proprio tutto va male ragazzi che devo cambiare il volante ci possiamo vedere a games week o è aperto per tutti e ragazzi se ci vediamo la games week c'è il bitico morris il mitico marco drums games e tutti quanti allora io ti dico una cosa chiaramente nasce e muore qui no vittorio c'era l'amico francesco che era di bari anche lui e praticamente ha preso la gira del che se riguarda come sto nel volante si fa partire storto mi fa partire in quinta invece di terza e fa queste cose qua e adesso vado a vedere sia un po fuori allora non so ma quella curva qui amore mi lo sai che non devi fare così si è rotto l'abbiamo rotto per non dire qui non devi dar gas adesso dei gas e la no scusa 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 scusate che mi segue volevo guardare il tempo come si sono da dietro ma vabbè vai che stanno uscendo lo scatto ma tanto il volino e stanno uscendo tutti amo eh se non dici qua cioè diciamo ma comunque non è che poi devi uscire tutte le curve e stai uscendo tutte le curve e rimettila rimettila la tua concentrazione perché devi finire la gara di cinque giri se no è così è un disaltro frena frena ok e stai accelerando troppo prima che non vuoi sbagliare eh ho capito è colpa mia se si è scassato un volante adesso vediamo di metterlo apposta se no sono 800 euro eh eh che cazzo guardate la gama anche il volante si doveva rompere porca miseria come fai a fare una roba seria se il volante fa tutto storto è di certo un altro uguale il giro 123 non lo ricompro se lo avevo comprato a fare il passaggio superiore no il passaggio è di pro perché quell'altro costava 1500 bisogna essere dei eh sì giuli se si trova in offerta perché se no è anche 999 non so però di gente che l'ho trovato 800 trovate insieme nella staglia cercare nei vari siti quando si trova in offerta c'è un amico chi è che l'ha preso ragazzi è phil che mi ricordate voi chi ha preso il dd pro della fanate che non gli è ancora arrivato e doveva arrivare il tracking cioè che l'hanno se sicuramente potute i corrieri c'è chi è che c'era di voi che le stavo parlando in live film forse eh phil boe che non gli era ancora arrivato mi sembra vorrei che ti dà una mano amore dai no non mi ha mai una mano grazie grazie sì io al 923 e va da dio però non ho capito per quale motivo se è un problema di oggi perché fino a ieri sera andava bene se è un problema di oggi o devo riavviare magari la console perché non l'ho riavviato da da una settimana magari è solo una questione di riavviare la console spegnerla riavviarla e perché lui quando fa il settaggio sapete no che fa gira tutto destra gira tutto sinistra si mette in centro ok si mette in centro il problema è quando gli vado a dare l'account mio butta fa fa questo problema capito ragazzi ma prima lo fa giusto e quando gli vado a sa che si accetta sto prestation e devi lo gare con un account no quando fa quello lo butta storto ed adesso poi chiudiamo la live e vado a vedere un attimo in internet se c'è qualche settaggio le impostazioni e roba del genere mi sembra un po strano nel senso capito ragazzi però però anche anche a fare le patenti mi stava tirando scemo che faceva di di scala la marcia non so in quinta poi mi scalava la marcia in terza e tu devi prendere e salire di due marce una dietro l'altra per non c'è la patente già è tutto tirato non si può fare così oggi vuole grandissimo noi la carne non la carne stasera e poi vediamo con torno che c'è palatine poi questo ci fa macchina lo stavo faccio anche charger ha la macchina che non va bene non è il volante anche a te stasera forza ferrari assolutamente sia amico mio speriamo bene speriamo anche in science non solo in leclerc troppo gas troppo gas meno gas adesso ti metti dentro faccio la curva stanno a due punti giro la macchina eh dimmi come se staggiano a fare aiuto stiamo a farlo ancora a tempo mo concentrati amico concentrati sai che devi frenare quindi frena di quarta boh devo trovare quelle che ho mandato giro questo volante gira questo volante di più rigirarlo quasi tutto e accelerare grande frena grande fracca pena aspetta non accelerare non devi accelerare di cazzo ora è normale perché sbagliato la curva ma se devi accelerare vai fuori come succede tutte le volte che ti sbatti fuori è una regola devi accelerare al poco parzializzare si comunque devi parzializzare di che l'hai capita perché è così che funziona quindi basta frena 150 e poi è una questione seconda gira terra accelera ma fai un tempone adesso puoi farla se ne frega non devi andare sull'angolo sulla terra lì se no di putta fuori sei troppo sulla sinistra la BRZ si si fra tutti la BRZ tranne Bruschetta che penso che ha messo la mazza diciamo la tenza sei troppo a destra o a sinistra eh amore ma è quando freni è quando freni amore fai finire la gara e basta ok dai Marco farai giocare Marco farai sapere farai giocare come vuole dai ma vabbà vanno a giocare bella frac nooo no a tre a tre ciao Giulia ciao mitica ciao mitica il protetto è brutto è un appetito a tutti ragazzi mamma adesso vediamo anche noi l'ultimo giro e ci salutiamo ci vediamo stasera alle 9 è girato lì porca si è decidato magari porca santo piri piri è un errore qua c'è un errore che butti la gara lei è tu sei giri se sei giri portano una gara per te ne raro c'è un errore grande che vi è la gara bella che è la gara bella che è la gara tutta la gara così bella grande grande bregali che è arrivata terza bravissima bravissima è il mitico e il mitico ci sono perché guardo la formula alle 23 perché non ho sky quindi non la voglio spoiler ok va bene allora se ci sei noi alle 9 9 e mezzo siamo online siamo online forse con formula 1 e vediamo un attimo eh capii adesso vediamo dai ha girato tutto a destra quindi è rotto ciao ciao amico ciao amico non c'entrava niente sei arrabbiata per il volante no non sono arrabbiata con nessuno perché Marco poi mi mutisci no me lo capisco ti è fastidioso quando contro il muro ho perso la concentrazione e basta ok dai ragazzi va bene perfetto perfetto ci vediamo dopo amici miei eh sì ecco purtroppo se a me non mi dà fastidio se non mi ero già ancora dai ragazzi allora ci vediamo alla prossima ok ragazzi grandissimi grandissimi quindi se ci siete ci vediamo stasera io non so stasera a questo punto se facciamo formula 1 se facciamo ancora un paio di rette grand turismo vediamo un attimo vediamo un attimo poi decido dopo devo sistemare il fattore volante sinceramente perché così non va bene va bene ciao scharder grazie mille ciao Kevin grazie mille e ci vediamo ciao 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 tutti ci vediamo stasera alle 9 ciao amici miei ciao ciao a tutti ciao 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 Kevin grandissimo ciao ciao